Storia di Cerruti a sua moglie. Stant'anni da cinquanta, cinquanta e cinque anni, Maria tutta a posto, copia regolare, chi ha tutte le sere va a giochi a carte al bar con gli amici e chi la guarda la televisione sferruzzare così tanto per passare il tempo. Una bella sera la televisione vede un bel filmato su Night, Tabaren così. Chi arriva qua e chi la guarda? Ma perché ti porti non una volta al Night? Ma una volta in tua vita, una volta solo in tua vita. Ma no, no, insomma vai figurarti, dai, ti rimola, lo convince. Poi di dopo parto, chi ha il smoking, chi la bella vestita proprio, è tutto lungo. Più il taxi arrivo davanti al Night, arrivo davanti al Night portiere, a tutti quei bottoni duri, guarda la porta, come va? E la fumo, ma tu conosci? Ma già che giochiamo a carte quando è libera, che non è, aveva il bar a giochi a carte insieme a me. Ah va bene, va bene. Entro in trenta, guarda la robiera, guarda la robiera, tutta la patania con le tette fuori, pari giù, eh, pari. Oh, mi suggerite buonasera. E adesso ti dici che giochiamo a carte anche questo insieme a te. No, no, la saperne, è una storia triste, triste. Pensate, ha due lauree, la fia con le fuori, pari, meno male che pare trovare a sì, la trovai un trovai ottimo pari per mangiare, perché pensate, due lauree, guarda, con le tette fuori, va, porra fia, porra fia, va. Entro in trenta, direttore di sala. Oh, mi suggerite, buonasera, sempre il solito tavolo. Ah, che è la fia con te. Adesso, cosa ti conti adesso? Ma cosa stai con te? Alla fai il militare insieme a me, lo chiamavo il paiazzo, a dire. Sabia che era la mia fia con la solita battuta, diciamo un paiazzo per l'uomo. La fia con 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 il champagne, un cammino manger, due spettacolini, il piano bar, il piano che suona, l'orchestrina, tutto quanto. A un certo punto le luci, si attenuano le luci e sul palco una pertica di vent'anni, bella melsoul, ma bella melsoul, ah, che roba che era bella. Camminas, gavessi via la roba tutte, a un certo punto gava via gli slip e resta tutta nuda. Agita gli slip verso il pubblico e fa, è questa sera questi, a chi li regaliamo il pubblico, tutti in piedi, cerutti, cerutti. E a quel punto la fuma mangia la feia. Bastard, tutta nè, lo tira su dalla sedia, lo trascina fuori e lo campa a andare in taxi. Dice l'indirizzo all'autista che parte, tranquillo, lui con la sua sigarettina in bocca, parte, chi la darà era tutta nè, bastard, tutta la vita a guardare la televisione. Altro che giochi a carte, eri sempre a piccola, vigliacca, ma adesso arrivo a prendermi la pipa a tira, e ping, patung, ma no, 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 patung, ma bastard, adesso arrivo a prendermi, va, bastardù, bastardù, così. A un certo punto il tastista, da due balle, prima piazzola, freccia a destra, a costa, andava via la cica dalla bocca, girava, Dio fa dei ceruti, in tutti questi anni, i picceroni usano una giaccariana, ma come costa stasera? Dio fa!